Questo video riguarda i migliori tre supporti per sacco da box. Il vincitore della qualità è l'RDX sacco da box. Sacco da box riempito con sette pezzi RDX progettati per sopportare i colpi. Un compagno di punzonatura incredibilmente potente realizzato con pelle maia di alta qualità per l'allenamento più realistico. Ideale per l'allenamento. Questo set di borse per carichi pesanti affronta i rigori della palestra o dell'uso domestico. Viene fornito con un paio di esclusivi guanti da borsa in pelle maia ide. Questo set di sacco da box è proprio ciò di cui ha bisogno un potente battitore. Comodo ma resistente grazie al suo design pratico. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Spixun staffa per sacco. La staffa da parete per carichi pesanti è realizzata in acciaio per impieghi gravosi di alta qualità testato per resistenza e resistenza. Può sopportare fino a 400 kg. Il nostro gancio per sacco da box è rivestito con vernice industriale in polvere di alta qualità che fornisce protezione dalla ruggine di lunga durata e resistente alla corrosione. Viene fornito con 6 bulloni ad espansione e una fibbia di sicurezza per l'assemblaggio del prodotto, adatto per l'installazione perforata di muri di cemento di dimensioni superiori a 30 cm x 15 cm. La funzione di sospensione consente di posizionare il sacco da box ovunque, dal garage alla palestra di casa. Ideale per box, MMA, kickboxing, sacco da box, sacchi pesanti da box, allenamento fitness, allenamento della forza. Ottimo regalo per gli appassionati di box. Il vincitore del premio è l'Wakey a supporto per sacco. Il nostro supporto per sacchi di sabbia è dotato di viti e chiavi accessorie, che ne facilitano l'installazione saldamente e stabilmente sulla parete. Il nostro supporto da parete per sacchi di sabbia per impieghi gravosi ha una capacità portante fino a 100 kg, che è estremamente affidabile e non facile da danneggiare. Con l'aiuto del robusto connettore del gancio di sospensione, è possibile collegare facilmente la staffa perforata a questa staffa. Il nostro prodotto è una staffa ideale per gli appassionati di box, in modo che tu possa allenarti comodamente in qualsiasi momento. Il nostro supporto per sacco da box in acciaio adotta una struttura in acciaio resistente, che è forte e stabile, stabile e durevole. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.